Il nuovo Nintendo DSi XL ha gli schermi più grandi di qualsiasi sistema Nintendo DS. Ogni schermo misura 10,7 cm. Rispetto al Nintendo DS Lite, gli schermi sono più grandi del 93%. Leggere su schermi più grandi è decisamente più comodo. Grazie agli schermi più grandi è più facile divertirsi giocando con altre persone. Prova a risolvere un rompicapo del professor Layton insieme a qualcuno. Dai un tocco in più ai tuoi giochi grazie agli schermi più grandi. Oppure scopri le immagini in formato più grande. Utilizzare il nuovo stilo a penna supplementare sul touchscreen è naturale e comodo. Scopri nella comodità imparando a dipingere con il nuovo titolo Nintendo DSiWare Art Academy. Nel Nintendo DSi XL sono preinstallati alcuni giochi e applicazioni. Nintendo DSi XL. Nei negozi dal 5 marzo.